Quali sono le iniziative intraprese dalla provincia di Pescara per la costruzione sostenibile? La provincia di Pescara è struttura di supporto per il patto dei sindaci, quindi abbiamo avuto la delega dalla Commissione europea a rappresentarla e insieme ai 46 comuni in meno di due anni abbiamo raggiunto risultati straordinari, risultati che non hanno uguali in Europa perché tutti e 46 comuni hanno aderito al patto dei sindaci, tutte e 46 le municipalità hanno definito e elaborato il BEI quindi il bilancio delle emissioni nell'ambiente e tutte e 46 le municipalità nel termine previsto hanno definito i SEAP quindi i piani per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto oltretutto poi tutti i 46 comuni hanno fatto degli interventi di efficientamento interventi di efficientamento sugli edifici e quindi concretamente hanno dimostrato il fatto che intervenire in termini di efficientamento sugli edifici comporta un grande risparmio oltre che un guadagno in termini economici e rispetto all'ambiente perché sono meno emissioni di tonnellate di CO2 grazie grazie grazie